Arriva anche lui di corsa. Papa Francesco fa il suo ingresso nella sala clementina del Palazzo Apostolico e saluta i preti di Don Orione, quelli che corrono, a identificare così la gente che guardava i sacerdoti della piccola opera della Divina Providenza a muoversi tra i bisognosi con il passo rapido di chi appremura. Il tipo di preti che ama il Papa, quelli che non rimangono chiusi nei loro ambienti ma varcano i confini delle istituzioni di carità per portare in ogni luogo il profumo della carità di Cristo. Nell'incontro con i partecipanti al capitolo dell'ordine che si sta svolgendo a Montebello, in provincia di Tortona, il Papa ricorda Don Orione e la sua passione per i poveri, modello ancora oggi. La Chiesa intera è chiamata a camminare con Gesù sulle strade del mondo per incontrare l'umanità di oggi che ha bisogno, come scriveva Don Orione, del pane, del corpo e del divino balsamo della fede. L'opera, fondata dal piccolo prete piemontese, sensibile e geniale nella carità, può contare oggi su oltre 2000 membri tra religiosi, religiose e laici, presenti in gran parte del mondo e dedicati all'assistenza di malati e disabili, oltre che alla formazione di giovani e professionisti della sanità. La strada di servi di Cristo e dei poveri. La strada maestra è tenere sempre unite queste due dimensioni della vostra vita personale e apostolica. E l'essere servi di Cristo, ha continuato il Papa, che qualifica tutto ciò che fa ed è l'Orionino, che deve sempre essere per la strada in cammino, per portare la misericordia di Dio a tutti indistintamente.